ciao ragazze oggi vorrei farvi vedere un punto molto carino ed effetto guardate qui lo chiamiamo il punto farfalla allora si esegue su maglia rasata dritta e con le maglie diciamo un multiplo di 5 quindi qui ho messo su 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 maglie perché ne abbiamo una e una all'inizio di vivagno e 20 sulle quale faremo il nostro punto andiamo a cominciare eccoci qua allora e adesso io in questa riga ho fatto la farfallina sui primi 55 li ho lasciati vuoti poi un'altra farfallina sempre su 55 vuoti e via così adesso andremo a farla qua in mezzo quindi lavorerò il mio primo punto lo passo senza lavorare che è il nostro vivagno ok e farò cinque punti diritto normale 45 poi metto il filo davanti così e passo 5 punti senza lavorarli prendendoli in questo modo come se li dovessi lavorare a rovescio quindi 1 2 3 4 e 5 ora il filo che avevo passato davanti lo leggo cioè leggo i punti praticamente passo dietro senza tirare ovviamente perché sennò diventa brutto quindi lo passo lasciandolo morbido e farò altri cinque punti a diritto normalmente 345 filo davanti passo altri cinque punti 345 passo il filo dietro lasciandolo morbido e finisco la mia riga eccoci qua questo punto questo tipo di lavorazione legato lo faremo per tre volte vedete qua ci sono infatti uno due e tre fili e il ritorno sarà sempre a rovescio sto completando il terzo giro filo davanti vedete ne ho già fatti due questo è l'ultimo 45 passo il filo dietro ecco che ho tre fili facciamo il rovescio e poi vi faccio vedere come formare la nostra farfallina anche questo è un punto molto carino per fare maglie anche copertine si volendo però sulle maglie soprattutto per le bimbe diventa molto carino poi ovviamente uno lo può fare se fa ogni cinque punti una farfallina a distanza di cinque giri può comunque avere un effetto tipo tra puntato diventa molto carino e se no potete farle anche sparse quella sempre a vostro piacimento ecco fatto il nostro giro rovescio ora andiamo a fare il giro che completa la farfalla quindi mi posiziono normalmente e arriviamo alle nostre tre i tre filetti allora attenzione i filetti li abbiamo fatti su 5 punti 245 quindi noi dobbiamo lavorare quello di mezzo il terzo per completare per dare questo effetto v vedete che prende la farfalla quindi il lavoro due punti a diritto normalissimi il terzo attente vado con il ferro vado sotto i tre fili così prendo il terzo punto e farò una maglia a diritto però la passo e vado anche sotto i tre fili vedete così e faccio uscire il punto li abbiamo abbiamo formato questo punto questa v la vedrete poi quando faremo il giro di ritorno a rovescio quindi il lavoro gli altri due della farfalla a diritto normalissimo i 5 per arrivare alla prossima sempre a dritto e ora vi faccio rivedere come fare allora anche qua stessa cosa due punti a diritto ok allora andiamo sotto i tre prendo la maglia sul ferro la lavoriamo a dritto scendo 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 fino giù salgo e faccio cadere la maglia ecco fatto e di nuovo a dritto sto facendo il giro di ritorno vedete il punto qui che abbiamo fatto per formare la farfalla viene lavorato semplicemente a rovescio ecco così cadendo come potete vedere si è formata questa bella v poi ve lo faccio vedere appena finita la riga questi sono tutti i punti molto carini e semplici da fare ma sempre un po di effetto ecco allora adesso guardate visto qui nel punto dove abbiamo lavorato la terza delle cinque maglie che hanno formato la farfallina si è formata questa v e che dà proprio l'effetto pizzicotto no così quando poi voi andrete a lavorare o fate magari per una bimba è una cosa simpatica e anche potete cucire una perlina su questo punto così che da dargli una cosa un po fashion no un po sfiziosa ecco questo è quanto spero vi sia piaciuto vi ringrazio e alla prossima ciao